Comunico, stasera si parla di una produzione che ha bisogno di aiuto da parte dello Stato, nel senso che ha bisogno di meno progressi e più efficienze. Sì, sicuramente, come tutte le libere professioni, anche i farmacisti chiedono di poter svolgere le loro attività senza obstacoli, buro tradici e fiscali da parte dello Stato. Questa sera siamo qui soprattutto per festeggiare e onorare professionisti valorosi che hanno svolto questa professione per decenni, mettendo a servizio della comunità competenza, esperienza, sapienza, ma anche sensibilità e spirito di solidarietà, soprattutto attraverso l'inizio.